Sono già presenti in cattedrale da qualche giorno, cioè dal sabbatino curato dall'associazione che si occupa del mercoledì santo e due piccoli gruppi sacri che sostituiscono le corrispondenti Vare durante l'esposizione all'interno della chiesa di Santa Maria Lanova che si svolge al termine della via Crucis per le vie del centro storico, curata dalla diocesi attraverso l'ufficio di pastorale giovanile fino al giovedì santo. Dopo infatti la conclusione della via Crucis, le Vare entrano in cattedrale e vi rimangono fino al giorno della processione. I più grandi però dei gruppi scultori realizzati dai biangardi, non potendo accedervi, vengono rappresentati dalle tre varicegge il sinedrio, la condanna e la deposizione, grazie alla sinergia tra le due associazioni interessate, cioè quella dei piccoli gruppi sacri e del giovedì santo. Quest'anno la vara della condanna affidata ai tipografi potrà essere presente insieme alle altre all'interno delle navate. Farà il suo ingresso in cattedrale infatti perché una modifica al carrello, così come spiega uno dei detentori, Arcangelo Gianmusso, con l'inserimento di piastre, le permetterà di ruotare e quindi di passare dall'ingresso principale. Dal giovedì santo i fedeli visitatori potranno ammirare invece, sempre nella chiesa di Santa Maria Lanova, i piccoli gruppi sacri, sino al 25 aprile.